La spiritualità che entra nelle nostre case. Ho chiamato appunto il Museo Vaticano. Possiamo sentire? Prego. Vai. Buongiorno, sono il Cardinale Ferdinando. Buongiorno. Ma che bella voce, buongiorno. Ma che bella voce tua, allegra. Ma che piacere avere che fai con i giovani sempre. Guardi, grazie per la giovane, perché proprio non è più il mio caso. Però comunque l'accetto come un grandissimo complimento. Mi dica, eccellenza. Ascolta, ascoltami. Ma mi scusi una cosa, erano suoi quegli ospiti che hanno fatto una bellissima visita guidata con me qualche settimana fa? Ma tu hai una memoria eccellente. Ha visto? Ha visto? Ha una cosa incredibile. Come si sono trovati benissimo loro? Sono contenta, perché infatti mi hanno chiamato all'ultimo minuto e mi hanno detto ci sono questi due ospiti del Cardinale. Ti aspetto? Quindi abbiamo fatto una bellissima visita guidata. Mi ricordo questo nome. Infatti, guarda, ho chiamato, ma non pensavo ovviamente di trovare te, che poi ti ricordavi a tua volta, insomma, di questa cosa. Ha visto? Sono trovati benissimo, sono stati veramente complimenti. Sei una persona, sei una persona, poi mi mette molto a lei che sei felice, vedo, eh? Sì, allora ci dobbiamo conoscere, eccellente. Guarda, molto volentieri, perché tra le altre cose ti posso chiedere a te direttamente senza fare altri tranquilli. Te la posso aiutare volentieri? Sì, a me servirebbe un accredito per un gruppo, appunto, di miei parenti che dovrebbero venire in visita ai musei. Allora, se mi dici a me, allora che cosa devono venire questi suoi parenti? Sì, sì, sono dodici circa. Che cosa vorrebbero fare? La visita guidata? Tu con l'altro gruppo che cosa hai fatto fare? Tutto, mi pare, no? E dunque noi abbiamo fatto, con i suoi ospiti, abbiamo fatto una visita guidata attraverso i musei, per cui praticamente siamo passati per le stanze di Rappello, le gallerie Pontificie e poi siamo scesi da lì in Sistina. Sì, questo lo so, insomma, abbiamo fatto un po' tutto. Tutto. Però io direi lo stesso, perché loro sono molto propensi a vedere un po' tutto. Quindi in questo caso si chiama una visita generica? Sì, facciamo il generico, sì. Va bene. Ma sarei contento se ci fossi tu, s*****o. E guardi, questo lo devi chiedere, purtroppo, questo lo devi sempre chiedere all'uno qua, dottor c***o. E lei però, così ci conosciamo. Certo, certo, va bene. Ti abbraccio e ti auguro tanta felicità. A presto. A presto. A rivedere. Gioia, ciao, gioia. Ciao. Grande consiglia. Grande consiglia. Grande consiglia. Grande, tranquilli, perché non è finito. Come non è finita? C'è la seconda parte. Allora da non perdere. C'è sempre quella fila enorme, no? Sì, sì. Sì, come mi sono chiesto. Sì, io che sono cardinale all'occorrenza. Posso chiedere una facilitazione? Eh, certo. Per 12 persone. 12 persone. Ma chi ci porta? Nipoti, parenti? Allora vediamo. Noi sentiamo noi. Sentiamo così. Sentiamo come va. Sì. Dottor c***o. Sì. Come stiamo, cardinale Ferdinando? Chi è? Cardinale Ferdinando. Come stiamo? Cardinale Ferdinando. Fosticchia, sì. Tutto bene? Sì. Senta, io ho chiamato perché per un accredito, ho parlato già con i ragazzi, un accredito per i miei ospiti che tra le altre cose ho avuto anche una settimana fa e qui mi hanno detto di chiamare a lei. L'accredito per quale motivo? No, sono i miei parenti. Ah, per far saltare la fila quindi? Sì. Per fare una prenotazione? Sì, esatto. Sì, allora non con me, chiedo scusa se le hanno dato un'informazione sbagliata, la segreteria della direzione dei musei. Addirittura, sto impazzendo da un quarto d'ora sto chiedendo. No, non essendo avvenso poi a registrare tutti i nomi di telefono, mi devi perdonare, dimmi pure. Allora, chiama internamente o esternamente? Io chiamo esternamente. Allora 06. Sì. Prende l'interno. Chiede della segreteria della direzione. Nella persona di? Non so chi c'è di servizio questa mattina. Comunque ci sono gli uscieri che rispondono, le passano direttamente alla segreteria. Ma benissimo. Ti abbraccio, c***o. Prego. Stammi bene. Per saltare la fiera. Come se fosse una di famiglia, certo per saltare la fiera. Ma si mette lì, il cardinale a fottica. Cono eccellenza. Collegati. Mi scusi, ma c'è la fine occupata. Sì, Sergio, aspetto, posso dire a te? Tanto poi loro sanno come fare, eh? Eh, non so, che cosa dove fare, mi scusi, eh? No, un accredito per i miei parenti. Un accredito per i suoi parenti? Sì, per il Museo Vaticano, un giro, un tour generico. Allora devi contattare un altro numero, però, non è questo. No, il dottor *** mi ha dato questo, eh? Il dottor *** mi ha dato questo? Sì, direttamente questo. Attendo un attimo, allora. You are waiting to be connected to the extension required. Oh, yeah. Buongiorno. Sì, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono il cardinale Ferdinando. Sì, buongiorno. Senti, mi servirebbe un accredito per 12 persone, i miei parenti, per il giro ai musei. Sì. Sì. Mi ha detto di chiamare qui. Niente, tutto a posto. E quando vogliono venire? Guardi, facciamo settimana prossima, direi. Sì. Un attimo che controllo le date. Lei, il dottor? Sono il collaboratore di Monsignor ***. Sì, salutamelo, eh? Dagli un abbraccio. Sì, ma che devo dire, scusami? Cardinale Ferdinando Fotticchia. Ah, benissimo. Allora, giovedì 7 febbraio, va bene? Sì. Va bene? 12 persone, il conto del cardinale Ferdinando. Va bene? Ma da dove le facciamo accedere? Da sotto, al lato uscita oppure da quattro? No, io direi dal lato uscita, se non è un problema. Va bene. Va bene, prima faccio il diverso. 7 febbraio, 12 persone. Va bene. Verso le 10 e 30? Sì, anche 10 e 30. Va benissimo. Il conto del cardinale Ferdinando. Quel mattacchione sta parlando, sta indaffarato, no? Eh, sta con delle persone, sì. Adesso, peraltro, è uscito anche da Grato, quindi. Eh, lo so, lo so, lo so. Però sei ripreso subito. Va bene. Comunichiamo e ci attiviamo subito. Ti abbraccio, sii felice, grazie. Rivederci, buongiorno. 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 Scusi, Cardinale, per quanto è l'appuntamento allora? 7 febbraio. Visto che non ho trovato nessuno, andiamo tutti in gita, va bene? Bene, bene, bene. Tutti pazzi per RDS. Grazie a tutti.